terra cina a fondo chiuso buonasera cuore ciao amore ciao facciamo invece il piccoletto aspetta un amico prego fine a 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 Grazie a tutti. E' un bel volo questo pure, cari ragazzi, il mio problema è le curve, vai vai vai. Grazie a tutti. Ecco fatto. Ui, rischio, ho toccato con la mano la pietra, troppo volo giù. Ecco perché, perché lui passa da lì, ecco perché non mi viene male. Un saluto a tutti i follower. Grazie a tutti.